La ripresa post pandemia sul nostro territorio passa attraverso un rilancio dell'occupazione ed un coinvolgimento sempre maggiore delle nuove generazioni. E' il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, a rilanciare con forza l'importanza del settore per l'economia del territorio. Nella manovra approvata dal governo nei giorni scorsi, infatti, sono previste alcune misure tese a favorire l'ingresso delle nuove generazioni in agricoltura. In questa direzione vanno l'esonero contributivo per 24 mesi per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli che si iscrivono nella previdenza agricola nel corso dell'anno. La costituzione del fondo di rotazione per l'attuazione del programma Next Generation EU, gli sgravi contributivi previdenziali a favore delle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Anche se l'associazione di categoria ne avrebbe preferito l'estensione anche ai contratti a tempo determinato. Per Schiavone, che è anche componente della giunta esecutiva nazionale di Confagricoltura, con delega alla ricerca e alle università, la crisi economica la supereremo più facilmente se sapremo favorire anche qui da noi processi di innovazione produttiva.